non ci si ferma qui dobbiamo guardare amici e amiche del genuano tipico ma soprattutto in questo caso amici e amiche di genoa ed intorni appassionate di calcio ben trovati nuovo podcast nuova idea del genuano tipico e un ospite di eccezione veramente particolare come francesco bacilli al mio fianco ciao fra grazie ciao a tutti allora innanzitutto come stai bene beh come il genoa sto bene diciamo che io sono molto genoa ci sono quelli che sono meteopatici io sono genoa appatico nel senso che quando il genoa va bene sto meglio anch'io direi che direi che un po tutti i genoani se non credo siano così diciamo che il genoa può essere curativo ma credo che per tutti le squadre di calcio siano anche qui anche questo e beh sì chiaramente fa parte ti danno felicità o amarezza in questi ultimi due anni abbiamo fatto come dire due annate no importanti con dei risultati annunciati e poi non ce l'abbiamo più abituati ecco anche qua mi suona sto coso spengo tutto olè aspetta eh olè vai tranquillo ops ops mettiamo dove cavolo è uso in aereo ecco qua vai il bello della diretta dicevamo 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 che può essere appunto curativo anche per il morale un buon risultato della propria squadra e beh sì eh poi devo dire che appunto dopo tanti anni vediamo almeno per adesso una squadra che si pone degli obiettivi e piano piano riesce a raggiungerli cosa che non vedevamo è assolutamente vero nel nostro caso che non vedevamo da tanti anni forse forse dei primissimi anni di gasperini conosciuti dalla cia la e per me ha fatto quei due o tre anni all'inizio in serie a dove siamo andati in uef eravamo stabilmente dalla parte sinistra delle della classifica no? E poi piano piano siamo scesi dall'altra parte fino agli ultimi anni che ci salvavamo di solito alla all'ultima di campionato tranne un anno credo quello con Ballardini mi sa sì a memoria direi di sì la domanda che mi viene da farti è come vivi tu il tuo essere tifoso in questo caso Genoano con il fatto di essere anche sempre in giro comunque appunto per i tour per le trasmissioni e quant'altro faccio l'ambasciatore del Genoano perché tanto ormai lo sanno tutti come dire no? Io a ogni concerto mi arriva qualcuno con la maglia del Genoa con la sciarpa quindi sanno che sono io poi abito in un posto dove sono tutti interisti quindi è più difficile fare il Genoano fuori perché lo fai a Genova è normale non sei Genoano sei Doriano difficilmente sei qualcos'altro ecco eh fuori dalla Liguria è più difficile anche perché sai le squadre che vincono poi diventano nazionali no? Eh la Juventus è di Torino ma i Juventini sono ce n'è più fuori che a Torino lo stesso vale per Inter Milan e per il Genoa è che è una squadra come dire di provincia è più difficile meno che eh ecco quando vinci allora magari c'è anche cominciare anche dei tifosi fuori per esempio mi ricordo quell'anno che arrivamo con Perotti che arrivamo in UEFA poi non ci andammo mi ricordo che c'era un figlio di una mia amica di Treviso che dice guarda che mio figlio tifa Genoa eh perché i bambini poi si innamorano delle squadre che giocano bene e tifano per quelle. Vabbè sì in effetti anche questo può essere un un viatico diciamo. Eh beh sì poi sai i ragazzini di solito fanno il tifo per chi vince quindi se hai una squadra che vince. Nel tuo caso appunto sempre in giro come riesci a seguirla? Come come vivi la genuanità appunto tu? Ah guarda eh allora le partite in casa dal dunque io non venivo allo stadio da tanti anni anche perché abito a duecento chilometri non è che mi viene proprio facilissimo. Direto. Eh l'anno l'anno della B eh siccome c'era una vecchia storia che Pippo Spagnolo diceva che portava fortuna allora ogni tanto mi costringi mi chiamava e mi costringeva a venire giù a Genova. Lì eh Pippo Spagnolo mi presenta uno che mi dice guarda sai che anche lui viene da Milano tutte le domeniche coi figli a Genoano eh sai chi era questo signore? Era Zangrillo. Ah ecco. Era Zangrillo. C'è qualcuno a caso. Con Zangrillo ci siamo conosciuti ma sarà stato il duemila il duemiladue duemiladtre eh che perché lui tutte le domeniche veniva giù da da Milano a vedere il Genova. Quindi abbiamo fatto amicizia anche perché appunto anch'io venendo giù poi mi ha scoperto che abitiamo a dieci chilometri e e niente quindi da quando Zangrillo poi è diventato presidente e mi diceva ma non vieni a vedere non vieni mai a vedere la partita dai andiamo insieme però era il periodo del del covid e quindi insomma guarda e preferisco guardarmela da casa francamente non voglio rischiare di andare in posti no dove c'è gente. Poi quell'anno della B a un certo punto mi decido dico dai ok vengo a vedere e vengo a vedere la prima di Gilardino eh vengo a vedere la prima di Gilardino con Zangrillo che diceva beh anche lui porta fortuna diciamo speriamo non gridarlo perché se poi perdiamo sono rovinato e e vinciamo contro il su Tirol da lì hanno cominciato a dire ma allora è vero allora vado quella dopo e praticamente ne vinciamo cinque di file eh e allora praticamente dall'anno scorso dalla dalla partita Genoa su Tirol in casa credo che ne ho perse cinque perché combinazione avevo il concerto il giorno della partita quindi non potevo esserci ma la cosa curiosa che le cinque coperso erano Fiorentina Atalanta Monza Milan e Lazio praticamente cinque sconfitte allora dici ma forse la fortuna è prendere le partite giuste e evitare quelle sbagliate sono segnali vedi anche è la conferma di quello che diceva Pippo alla fine ma infatti mi chiamano oh ci sei domenica o venerdì perché poi ormai col campionato ci sono venerdì sabato o domenico si capisce mai no? E allora a volte capita che c'è un concerto e quindi non puoi venire alla partita e quando invece le trasferte le seguo da dove sono o da casa oppure se sono in giro a fare i concerti mi porto dietro il mio iPad e me le vedo in religioso silenzio. Ma il tuo buon chitarrista che ho conosciuto e salutiamo. E' Genuano come te o c'è un... Diciamo che l'ho fatto diventare Genuano io perché Michele è un partito delle moto quindi col calcio ci azzeccava poco poi è venuto cominciato a venire allo stadio e ha visto tutto questo spettacolo che è lo stadio del Genoa quando gioca il Genoa è uno spettacolo al di là della partita e devo dire che tanta gente veramente rimane colpita dallo spettacolo che c'è sugli spalti perché non in tutti i campi funziona così eh guarda io quest'anno sono andato a vedere Fiorentina Genoa perché ero da quelle parti e oh sarà che lo stadio della Fiorentina c'è la pista intorno quindi sei più distante dal campo ma anche le coreografie la musica prima sembrava una squadra di serie B cioè il Genoa prima della partita c'è veramente uno show e poi da quando abbiamo... A Firenze ci sono stato anche io non quest'anno ma diciamo quando ci siamo salvati all'ultima giornata se ti ricordi Sì certo come no Io ero a casa di Zandrillo a vedere dalla tv ma io guardavo guardavamo l'altra perché Giorentina Genoa praticamente non stavano giocando e dipendeva tutto da... Allora ti racconto sempre questa cosa Io avevo la cuffietta per sentire cosa succedeva a San Siro Eh infatti perché era di là che era di là che... Cinque Fiorentina intorno finisce la partita a Firenze Radio 1 aveva... era saltata da Firenze... da Milano a Firenze in quel momento Finisce a Firenze risaltano Milano Noi crediamo che sia finita No! C'era ancora la distanza di quel bar famoso Come no? E certo anche perché... Credo che l'Empoli fosse che giocava contro l'Inter Ha preso tipo una traversa alla fine C'era una roba... Era Inter-Empoli e l'Empoli alla fine veramente aveva preso d'assalto l'Inter E per sfortuna loro non hanno vinto ma ci sono andati molto vicino Molto molto vicino ed è stato... guarda è stato anche un patimento essere allo stadio Infatti mi ricordo che con Zangrillo eravamo disperati Zangrillo aveva le testate contro il muro non finiva mai quella partita Mentre guarda... Fiorentina-Geno non l'abbiamo neanche vista perché Praticamente loro giocavano in playback Non uscivano da centro campo Esatto, facevano finta di giocare Giocavano... anche perché anche la Fiorentina rischiava quella partita lì Sì 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 Perché se per caso avesse perso e avesse vinto l'Empoli andava giù la Fiorentina Era una cosa molto particolare quelli giorni Infatti la partita si giocava a Milano e loro giocavano di conseguenza del risultato di Milano In pratica sì, guarda, te lo posso confermare, ero lì, te lo posso confermare Sì 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 E niente quindi... Vai vai, scusa No, dico quindi quest'anno, già dall'anno scorso, anzi Chiaramente la nuova proprietà è entrata in un momento abbastanza disagiato perché La squadra era a pezzi Non c'era neanche una squadra francamente Il povero Ballardini mi ricordo che all'inizio del campionato ha fatto il ritiro con quelli della primavera Non c'era nessuno Perché poi i preziosi li comprono i giocatori tipo all'ultimo giorno di mercato E arrivarono cinque giocatori di cui quattro erano a pezzi Perché Caicedo, Maximovi C'è tutta gente che ha giocato pochissimo perché era messa male Cioè aveva dei problemi a livello fisico proprio E quindi costruì una squadra Aveva squadre buone ma non era in condizioni buone Diciamo così No, non è che giochi a figurine Perché Maximovi c'è forte quando in forma In quel momento non era in forma Infatti giocava poco e male Caicedo era l'ombra di Caicedo che mi ricordavo la Lazio Era più lento di mia nonna Caicedo la Lazio era un fulmine Mi ricordo quando entrava Era veramente devastante Con noi era devastato Esatto Poi arrivarono gli americani Che secondo me all'inizio non ci capivano quasi niente Infatti arrivò Shevchenko Che era una scelta assolutamente di immagine Nel senso, sì, facciamo parlare del Genome Poi abbiamo capito che Shevchenko come allenatore Ecco, direi che qualche problemino ce l'ha Anche perché aveva allenato soltanto l'Ucraina Ma allenare la nazionale non è allenare una squadra di club Quello della nazionale è un selezionatore Che prende i giocatori più in forma Li butta in campo E della serie di giocate Anche perché non puoi preparare schemi O cose del genere La squadra nazionale è difficile Quindi è arrivato Shevchenko In una situazione già disastrata E non è riuscito a fare niente Poi è arrivato Sporz Sporz ha portato un po' di giocatori Che devo dire Si sono rivelati poi anche dei belli acquisti Perché i vari Frendrup, Gudmundson, Martinez Arrivano tutti da lì Alcuni non sono andati bene Tipo Yeboah o FT Che poi per esempio FT all'inizio Sembrava il miglior acquisto Perché le prime 6-7 partite di FT A me aveva impressionato Cioè sembrava un giocatore di categoria Cioè sembrava forse il più forte che avevamo preso Poi invece ho avuto un'involuzione Che non riesco nemmeno io a capire come mai Perché uno difficilmente si dimentica Di saper giocare a pallone FT In effetti è strano Tra l'altro una cosa particolare Che è successa Non invento nulla Perché avevo una dichiarazione Di uno dei giocatori di quel Genoa Calafiori Che ha detto Che l'unico baffa Che darebbe Lo darebbe Blessin E anche lì Quando è arrivato Blessin A parte che io Devo dire Non sono molto per gli allenatori stranieri Ma non perché abbia dei problemi di razzismo Anzi Hai anticipato già una domanda Quindi vai Ma più che altro Perché il campionato italiano È abbastanza particolare È un campionato super tattico Un campionato difficilissimo secondo me Poco spettacolare Perché poi io mi guardo spesso La Premier League Che è molto più spettacolare Nel campionato italiano Ma proprio come tipo di gioco Come approccio In Inghilterra Giocano per far gol In Italia giochi per non prenderle E quindi è un gioco più difensivista Anche più noioso da vedere Ecco Quindi è arrivato Blessin Che però aveva questo carattere È riuscito a A smuovere un po' quella scuola Che mi ricordo Le prime partite Se non altro Pressavano Giocavano Poi siamo stati anche un po' sfortunati Cioè Potevi vincere Le abbiamo pareggiate Quindi perdi dei punti Però forse Tutto sommato Quell'anno lì Andare in B Non so se sia stato un male Perché andando in B Dovevi ricominciare un ciclo Se noi ci fossimo salvati Arrivati i quartultimi Non so Se era meglio Sai Guarda Perché ho fatto lo stesso ragionamento Io in un video Tempo a tempo a dietro Ormai Perché stiamo parlando ormai Di due stagioni fa Quindi direi che Due anni fa Il tempo è passato E ho fatto più o meno Lo stesso ragionamento Perché è stato Secondo me anche un depurarsi Anche da una mentalità Che avevamo in quel periodo Oltre che Un discorso Certo Economico sportivo E poi hai fatto un campionato In B Dove comunque Hai fatto tornare La voglia Alla gente Di venire allo stadio Perché la gente In quel periodo Non è che venisse così volentieri A vedere il Geno Come dire Ok che noi genuani Non ci rendiamo davanti a nulla Però Come dire Vuoi anche un po' No? Di bel gioco Oppure di risultati I risultati Poi fanno venire la gente Allo stadio E non era così scontato Che noi andando in B Venissimo subito in Serie A Perché come abbiamo visto Come vediamo tutti gli anni La B è un campionato Veramente strano Perché Il nome lì Non conta niente Alla fine Viene in Serie A Magari una Che arriva dalla C Mentre nel campionato Di Serie A Le prime 6-7 Io ti posso già dire I nomi dell'anno prossimo Che sono quelle Io di solito Azzecco Io di solito Azzecco Chi si gioca lo scudetto Poi L'ordine esatto Delle altre Certo Però diciamo Le prime 6-7 squadre Sono più o meno le stesse Non ci sono quasi mai sorprese Mentre in B Ti puoi chiamare Parma Ti puoi chiamare Venezia Ti puoi chiamare In qualsiasi modo Te la devi giocare Fino all'ultimo Quest'anno Il Parma Ci è riuscito Quanti anni era Tre anni Che ci provava Credo tre anni Tre anni E che Spendendo un sacco di soldi Arrivava a malapena I playoff E usciva subito Quindi Oppure Pensa al Bari Che l'anno scorso A un minuto dalla fine Era in Serie A Grazie a Pavoletti All'ultimo secondo È rimasto in B E quest'anno Trampo si giocava Di andare in C Quindi Tra l'altro Si è salvato Contro un ex Genua Che era Breda Perché Breda è Un ex Genua Eh sì Che era Ternana Esatto Che è un allenatore Che era Ormai Gli scaderà il contratto Il 30 giugno Allenatore della Ternana Chissà che Non possa arrivare Anche Roberto Da noi Qui Sul podcast Ho lanciato così Poi Vedremo Vedremo Detto questo Invece Volevo andare Un attimo A parlare di Genova Anche di musica In un certo senso E tu Diciamo che colleghi bene Le due cose L'hai fatto sia Con Faber Sì E poi anche da solo Perché comunque La canzone che poi Tu hai rieditato Anche adesso Cioè I ragazzi Allora Ti spiego Allora Prima era nata Genova Blues Che era nel mio secondo album Con Fabrizio Voleva fare Questa canzone su Genova Da Come diceva lui Dai migranti Da 100 km Poca roba Ma pur sempre Migranti Perché comunque Io e Fabrizio Ci siamo conosciuti E frequentati a Milano Visto che lui abitava lì Io anche Parlevamo di Genova Ma Fai In Genova Ci sono due tipi di genovesi Quelli che non se ne vanno Da Genova neanche Che vivono attaccati Allo scoglio A bocca d'asse Oppure Quelli che se ne vanno E sono genovesi Di esportazione Il più famoso Si chiamava Cristoforo Colombo E Sia io che Fabrizio Eravamo due genovesi Di esportazione Cioè ce ne siamo andati Anche perché la musica È a Milano Almeno era a Milano Ora Il mondo è un po' cambiato Però in quegli anni Che sono andato A vivere a Milano Alla discografia Era a Milano Quindi se volevi fare musica Su serie Dovevi andare lì Poi vai lì e ci resti Ci resti Ma non è che diventi Milanista o interista Rimani genoano E quindi La gente ti guarda Come dire Ma come fai a stare con il Genova Perché qui sono abituati a vincere Per loro è inconcepibile Che uno sta con una squadra Che arriva a metà classifica Contento Perché uno si è abituato a vincere E dici Ma come fai a stare con una squadra Che non vince Perché te le fanno Questo ragionamento Quindi voi avete dovuto Se ho capito bene Avete voluto collegare Questo genovese Di esportazione Con il genoale Di esportazione Anche perché Quell'anno Quando abbiamo ascoltato la canzone Era l'anno che la Sampdoria Aveva vinto lo Scudetto Allora volevamo Dare Come dire Fare outing E dire Ok Noi però Non festeggiamo Abbiamo poco da festeggiare E allora ci è venuta Su Genova Io ride in blue Che non era un inno Era una canzone su Genova Poi Quello è diventato Una sorta di inno Anche senza volere Mentre L'anno dopo Che Praticamente Era l'anno prima Del centrario del Genova Nel 1993 Mi chiama Collovati E mi dice Dai Francesco Ma perché non scrivi una canzone Che l'anno prossimo Sono cent'anni del Genova Poi era il Genova Quello di Di Scuravi Di Aguilera Di Signorini E dico Guarda Bu Vediamo se mi viene fuori qualcosa Allora scrivo questa canzone E dico Ok ragazzi Però la cantate voi Tentiamo di farli cantare loro Ma È È stata un'impresa ardua Alla fine Ci ho dovuto mettere anche la mia voce Perché Loro pensavano di venire lì Un giorno in studio E registrare Senza saper cantare Quindi è stata Una giornata abbastanza dura Per poi riuscire A far cantare Quelli più intonati Però alla fine Era venuto fuori lo stesso E poi quest'anno Siccome c'erano i 130 anni Dico Vabbè dai Rincido La canzone del Centenario Con un qualche modifica E quindi L'ho rincisa Quest'anno Diciamo che con qualche modifica Ma con Un Un Firouge Cioè i giocatori Non hanno cantato Ma sono stati nel video Quindi C'è stato un piccolo Firouge Anche in questo senso Anche perché in italiano Ce n'erano pochi Che avrebbero cantato In effetti In effetti A parte Sabelli Bani E Vogliacco In realtà Ecuban è di Verona È di vicino Verona Ecuban sì Poi Ecuban è anche uno Molto appassionato di musica Quindi Si diverte molto A cantare A ballare Cioè È uno molto appassionato di musica Anche Messias Il brasiliano Tutti i brasiliani I brasiliani C'è calcio E musiche Ebbè sì Tra l'altro Una cosa che ti avevo detto Quando ci siamo conosciuti Alla presentazione Il libro di Nela Perché noi ci siamo Viste la prima volta lì E Geneva Blues È una delle prime canzoni Che poi ho cantato Diciamo in età un po' più adulta Era stata quella È stata quella Proprio perché c'era questo legame Un po' con De Andrè Un po' con Genua E poi La musicalità e quant'altro Allora Mi è sempre un po' piaciuta E infatti mi ha fatto piacere Quel giorno conoscerti Potertelo dire Diciamo Proprio perché Era una cosa Un po' particolare Invece No Volevo chiederti anche questo Com'è stato Ecco Tu hai fatto prima Il riferimento Alla difficoltà Di far cantare I ragazzi Del Genua Ma come è stato Come è nata l'idea C'era stessa difficoltà Di far giocare a pallone I cantanti Io ho giocato Di dieci anni Con la nazionale I cantanti Alcuni Diciamo Diciamo che Ho pensato Ho pensato di far cantare I ragazzi Come ti è nata Quest'idea Perché 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 Io ho visto fare A pazza inter Ma Un tre pazza inter E i ragazzi del Genua Non l'ho mai visto fare No No Mi è venuta quest'idea Dico ma sarebbe bello Se proprio loro Cantassero la canzone Chiaramente Dal dire al fare C'è di mezzo il mare Perché Nella mia mente Me li immaginavo Tutti intonatissimi E che cantassero da Dio Poi Quando sono arrivati Col pulma In studio Milano E loro pensavano Che si cantasse Tipo in Non so In corriera In pulma Dico no Devevi cantare Uno alla volta Poi in gruppo E tanti erano Talmente stonati Che non potevano Cantare da soli Allora Formavo dei gruppi Da due o tre Dove c'era quello più intonato E gli altri Andavano dietro Ma E poi alla fine Ci ho dovuto mettere Anche la mia voce Per Per dare come no Un binario Da seguire Esatto E comunque Alla fine Siamo riusciti A Inciderla Con le voci Di tanti giocatori Eh no È stata comunque Anche perché Non mi risultava appunto Che nessuna squadra L'avesse mai fatto Fino a lì Esatto Era prima Credo Almeno Che Ovviamente Gli inni delle squadre Sono cantati da qualche Cantata Qualcuno Ma non Dai calciatori Ecco a proposito di inni Mi hai dato l'assist Molti inni ora I cantanti li hanno rinnovati Penso a Paolo Belli per la Juve Quello del Sassuolo L'ho fatto un hack E quant'altro Sì E tu hai giustamente detto Genova Blu non era un inno Così come immagino I ragazzi No non è nata come un inno Ha nata una canzone D'amore Verso Genova Di due Che se ne sono andati Sai In realtà Se tu pensi Che la canzone Più famosa Genovese Che è Ma sei che penso In fondo È la storia di uno Che vive in Argentina E pensa a Genova Da montano Non è vero Questo rapporto Strano con Genova Di amore e odio Tu te ne vai Perché vuoi fare delle cose Perché chiaramente Appunto se vuoi fare musica Devi andare a Milano Punto Ora anche a Roma Qualcosa forse Ora anche a Roma Sì Roma e Milano Diciamo Però ecco Se rimani a Genova Chiaramente È più difficile Perché tutta l'Italia È provincia Così come Firenze Così come Venezia Cioè Se vuoi farlo sul serio Devi andare o a Milano O a Roma Però credo Che sia importante Per capire una piccola distinzione Cioè l'inno E la canzone dedicata O ispirata Esatto È diverso Perché Genova Blues Non è un inno La storia siamo noi È un inno Quindi Ecco La storia siamo noi Sono due tipi di canzoni Diversi Lo possiamo considerare Un inno moderno Tra virgolette Rispetto all'inno classico Del Genova Eh beh sì Eh beh sì È una versione 2.0 E io poi veramente Andando appunto In certi campi Tipo quest'anno Sono andato A Firenze E ora prima della partita C'era una canzone Degli anni 30 Che hanno messo Una volta Non c'era proprio musica Allo stadio Mentre prima della partita Del Genova C'è un sacco di musica Forse Anche perché 105 Essendo uno degli sponsor Del Genova E c'è lì La postazione E quindi passa molta musica Prima della partita Eh Addirittura Giochi di luci Coreografie Mentre se hai visto Tu a Firenze Non succede Niente A Firenze La cosa bella Che bisogna dare atto È che comunque Continuano a ricordare Dal video story A ogni formazione Questa è una cosa Quella è vero È vero Questa è una cosa Molto bella Che mi ha notato Sì No ma Sì Però a livello di Proprio coreografia E di Anche di partecipazione Perché penso che un giocatore Che scende in campo In quella bolgia Di rosso-blu Oh È come dire No Un po' di tremano Guarda ti devo mandare Ti devo mandare La chiacchierata Che ho fatto con Marco Amelia In merito anche a questo Certo Ti rendi conto di quello che dice Ha detto una cosa bellissima Sullo stadio Su Ferraris Eh Io credo che ce ne siano pochi Come il Ferraris Guarda Io credo che Ecco io ho visto La stessa La cosa così Tipo a Roma Con la Roma All'Olimpico Prima della partita Ti rendi conto Che la Roma Sta giocando in casa E senti la presenza Veramente Dell'Olimpico Poi Io ero andato a vedere Una partita di Coppa Quindi era pienissimo E faceva una certa impressione Ecco Con tutto lo stadio Che cantava In coppia Una roba Veramente La pelle d'oca E Chiaramente Entrare a giocare In uno stadio così Non credo che sia facilissimo Per un avversario Poi chiaramente Sei un professionista E dopo un po' Giochi Però L'impatto Lascia il segno Ecco Non a caso Marassi è tornato A essere il vecchio Fortino Perché Noi per qualche anno La storia del Fortino Di Marassi Era la barzelletta Ci batteva chiunque In casa Nemmeno Negli ultimi anni Era difficile Che vincevamo noi Anzi Era più facile Che vincevamo fuori casa Che in casa Mentre Dall'avvento Di Girardino Battere il cielo In casa È un'impresa Abbiamo visto quest'anno Per qualsiasi squadra Perché il Milan Ha vinto Con un gol di petto Altezza gomito Io ho ancora Il gol Ma lasciamo perdere Abbiamo anche Quei dubbi Perché Questo qui si chiama Braccio Non si chiama petto No ma poi Bisogna sempre La parte punibile La parte non punibile Lì è sempre Il solito discorso Comunque Francamente Ecco Io credo che Tu fai vedere Quell'azione a chiunque E ti dice Vabbè fallo Poi Pulis Un giocatore fuori classe È riuscito A fregare l'arbitro E ha fatto il gol Benissimo Però dico Nessuna squadra Era venuta A parte la prima Con la Fiorentina Ma che secondo me Non stavamo mai scesi in campo Secondo me anche Con la Lazio La Lazio in casa Non abbiamo giocato Ma lì secondo me Invece Erano un po' Come dire L'hanno presa un po' Sottogamba Non c'erano Non li ho visti Concentrati Con la partita Esatto Allora pensiamo uguale Era una partita Come dire Mentre nelle altre partite No Perché col Sassuolo Col Bologna L'ultima Siamo entrati per vincere E abbiamo vinto Assolutamente Con la Lazio Non so cosa sia successo Ma non era Il solito Genoa Forse era pagato In quel momento lì Magari Forse mi ha fatto Qualche partita Non so di troppo Nel senso che Forse erano stanchi Non lo so Però Non era il solito Genoa In casalingo Ti faccio Un'ultima domanda Che siamo quasi in chiusura Ti faccio una piccola domanda Che è questa Io so Vedendo Quello che dici anche su Facebook Leggendo i tuoi post Che tu fai molta distinzione Anche giustamente Tra la musica Diciamo Dei tempi Anni 90 80 E così via Rispetto a quella di oggi Io ti faccio questa domanda Molto spesso si dice Molto spesso si dice Che ogni volta Che c'è un confronto Anche nel calcio Eh ma era un altro calcio Era un'altra epoca L'epoca del calcio Quando inizia E quando finisce A questo punto Perché è difficile Ogni volta Chiudersi su sta scusa Senza dare una definizione Ognuno credo abbia la sua Beh ma sai Allora innanzitutto Chiaramente il calcio Ha anche cambiato Delle regole Per esempio Prima il portiere Non toccava la palla Non poteva prendere la palla Con la mano Passaggio indietro Il calcio si è velocizzato Tantissimo Negli ultimi 30 40 anni Se tu oggi guardi Italia Germania A 4 a 3 Sembravano perdere Dalle nazionali cantanti Cioè andavano Camminavano in campo Il giocatore Partiva dalla sua area E arrivava su Nella tre quarti Avversaria Senza che nessuno Gli andasse incontro Oggi non riesci manco Uscire dall'area Perché c'è già Tre che ti prestano No? Oggi Ecco Prima il calcio Non era neanche considerato Uno sport Mi ricordo Che quando giocava a pallone Il mio medico La mia madre Diceva Il calcio è un gioco Non è uno sport Mentre negli ultimi 20-30 anni Il calcio è diventato Uno sport Perché c'è una preparazione Atletica Ma vedi anche I giocatori stessi La conformazione fisica Cioè sono tutti Degli atleti Anche perché Corrono Il triplo di prima Chiaramente Le modifiche Che sono state fatte Al modo di giocare Hanno definito Diciamo che il calcio È stato velocizzato Ha cercato di velocizzarlo Per renderlo probabilmente Più spettacolare Poi c'è stata l'Olanda Che nel 74 Ha cambiato il modo di giocare Anticipando Quello che poi è diventato Il calcio moderno Infatti l'Olanda È l'unica nazionale Che non ha mai vinto un mondiale Anche se se meritava Di vincere almeno due o tre Arrivava in finale Poi perdeva la finale Però L'Olanda di Cruyff Ha rivoluzionato Completamente Il modo di giocare a pallone Che poi è lo stesso modo Con cui Sacchi Il Milan di Sacchi C'era una squadra Che correva Due volte L'avversario E abbiamo visto Che nel calcio moderno Chi corre di più Ed ha anche La tecnica Vince Vedi l'Atalanta di Gasperini Gasperini Uno che fa un gioco Molto fisico Ma anche tecnico Non è solamente fisico E nell'Atalanta Nell'Atalanta Ma anche nel Genoa Di Gasperini Dieci giocatori A parte il portiere Giocavano in venti metri Tutti avanti Tutti indietro Infatti era divertente Vedere Che nel Genoa Segnavano terzini Centrocampisti Attaccanti Lo sognavano tutti Perché Il gioco di Gasperini Porta 4-5 giocatori In area E infatti Gasperini È riuscito a ottenere Dei risultati incredibili Con una squadra Che non ha mai vinto Storicamente nulla Che è l'Atalanta Ma non solo Facendo un gioco Spettacolare E secondo me A livello internazionale Non a caso L'Atalanta ha vinto La Coppa UEFA Assolutamente Mi ero dimenticato Un po' il dettaglio Prima parlavano Degli allenatori E allora La domanda Che mi era sorta Spontanea Poi abbiamo parlato D'altro Mi era un attimo Surgita era Tu sei per la continuità Tecnica O per esempio Se mi piace Quell'allenatore Lo voglio a tutti i costi Ma io Sono per la continuità Tecnica Perché Innanzitutto Chiaramente Vedo i risultati Quando meritata Quando meritata Secondo me Per esempio Era giusto Confermare a Girardino Che non fa Il gioco di Gasperini Che è meno Chiaramente È meno Spettacolare Il gioco di Girardino Però Tutti quanti Dicevano per esempio Che Girardino All'inizio Non aveva un gioco E forse Lo era anche Perché Lui è passato Dalla primavera Alla prima squadra Così Non se l'aspettava Neanche lui Ma io credo Che Girardino Sia cresciuto E oggi Il Genoa Abbia un suo gioco Che forse È anche quello Di non far giocare Gli avversari Però Il Genoa gioca È un suo modo Di giocare Io ho notato Che qualsiasi squadra Col Genoa Gioca male Magari tu le vedi In altre partite Che fanno Col Genoa Non li fanno I numeri Perché Il Genoa Mette in difficoltà Qualsiasi squadra Ed è un modo Di allenare Ci sono vari modi Gasperini Invece ha un suo modulo Preciso Che usa sempre quello Che c'ha davanti L'Inter In realtà Mi sembra che Giampiero Si sia un po' Evoluto Perché se ti ricordi Non era solo 3-4-3 Adesso Diciamo che Sta modificarsi Beh diciamo che Ha imparato anche Un po' a difendersi Perché prima Faceva 4-2 Magari Repiteva 5 Adesso fa 3-5-2 3-4-3 Sì Ma io credo Che sia un po' Una tendenza di tutti Come dire Non avere un modulo Preciso Ma cambiarlo In corso d'opera Anche perché Poi uno deve Saper leggere la partita Quindi c'è un momento Che magari devi mettere La difesa a 3 E un altro Che invece ti conviene Metterla a 4 E quindi Giustamente Devi adattarti E saper leggere La partita Cosa che io credo Che Girardino Faccia bene Di saper leggere La partita Quindi di mettere In difficoltà Qualsiasi avvertario Io chiuderei Ricordami invece Il tuo spazio web Che condividi Con l'amico Claudio Nopri Che ho sentito oggi Tra l'altro Quindi Quindi Ricorderei Nell'occhio dei Grifoni Quando tornerete E noi torneremo Adesso vediamo Se riusciamo a fare Una trasmissione O due Prima del campionato Così sulla campagna acquisti Su quello che sta succedendo E poi ovviamente Torneremo con la forma Di campionato Quest'anno Credo che sia Il quarto Quinto anno Ho perso il conto Perché abbiamo iniziato Allora abbiamo iniziato Noi abbiamo iniziato Abbiamo iniziato L'anno Che ci siamo salvati Con Ballardini Abbastanza tranquilli L'anno di Shomuro Di Scamacca Quindi cos'era 2020 Non mi ricordo Io ho perso E abbiamo iniziato lì E quindi siamo già Quasi al quarto Quinto anno Abbiamo iniziato Per scherzo Io e Nofri Ci siamo sentiti Dal telefono Per un'intervista Incrociata Sul Genoa Poi ho detto Senti ma ti chiamo Dopo Perché non facciamo Una roba Sei Siccome Da Genoano Ora Dopo finita la partita Non è che parlano Molto del Genoa No Difficilmente Senza una parla Di Juve Inter Milan Inter Juve Napoli Milan Roma Perché non facciamo Una trasmissione Dopo finita la partita Che ci sfoghiamo Che ci diciamo No Perché è uno sfogatoio Credo che abbiamo avuto Un'idea anche simile Perché quello Era un periodo di covid Di quant'altro Quindi Era anche un modo Per parlare di Genoa Con altri Perché io Ho fatto nascere I miei live reaction Così Proprio per questo motivo Quindi Poi sai Io parlo di Genoa Esco qui Vado al bar E sono interisti Quindi È ancora più difficile Giusto È ancora più difficile Allora Mi sono inventato Sareba qui Almeno dopo la partita Mi sfogo E parlo con dei genoi Sulla partita Che abbiamo appena visto Quindi per chi vuole Se vuoi seguire Ti lascio qui I twitch e youtube Del tuo canale Certo Siamo di twitch youtube E anche su facebook Ah Perfetto Twitch youtube e facebook Lascio La pagina nell'occhio del grifone Ormai siamo la compagnia fissa Eh E a questo punto Io ti ringrazio Di essere stato con me E grazie a te Di aver anche inaugurato Questo nuovo podcast Con me Alla grande Quindi ti ringrazio Veramente tanto E spero di riaverti Magari in altre occasioni Senz'altro E forza Genoa Forza Genoa Ciao Fra Grazie Grazie Ciao a tutti